Monica Graglia, dirigente dei giovanissimi 2001, di donne nel calcio se ne vedono poche, anche di belle donne se ne vedono poche e soprattutto di donne che si impegnano così tanto, perché io ti ho vista veramente sempre stra impegnata in questa società. Ci racconti un po' cosa significa essere una donna impegnata nel calcio? Guarda, è una cosa che la faccio perché mi piace. Ho iniziato, avevo 16 anni, l'ho fatto per una decina d'anni, ho seguito tutto il calcio dai più piccoli alla prima squadra, poi ho sospeso un po' di anni perché con le due maternità purtroppo non si poteva dare quello che dovevo dare e poi ho detto, ma sì, adesso i miei ragazzini hanno raggiunto un'età di cui si può fare un po' di più e allora sono due anni che ho ripreso e ho seguito la squadra di mio figlio 2001. Quindi l'anno scorso Cigliano, quest'anno Cigliano-Tonego, insomma il nuovo orizzonti, come ti sembra? Ma impegnativo, impegnativo perché comunque insomma prima eravamo quasi la metà diciamo, adesso la colta è diventata più grossa, anche gli spazi sono aumentati, però uno stimolo in più, bello, bello perché comunque poi ci si conosce, gente nuova, esperienza nuova, c'è sempre da imparare. L'impegno non fa paura, quindi spero di riuscire a fare bene, a dare per me e per i ragazzi soprattutto, perché insomma è un'età anche particolare, insomma l'età di sviluppo, iniziano a frequentare scuole superiori e quindi una fascia secondo me delicata dove va seguita e il calcio è quel momento dove uno deve sfogarsi, si devono divertire, devono giocare e poi i risultati pazienza. Io dico che l'importante è impegnarsi, se uno ci tiene a fare qualcosa si deve impegnare, poi i risultati vengono, quello sono convinta. E per quello che hai visto secondo te che campionato sarà quello di 2001? Un bel campionato, devo dire che i numeri ce li abbiamo, i ragazzi sono secondo me buoni, validi, l'impegno ho visto che ce lo mettono, si può fare, un bel campionato, sì. Con l'obiettivo regionale? Certo, quello sì, tra l'altro giocando poi nel Vercellese noi incontreremo squadre che abbiamo sempre giocato contro, quest'anno ritengo che siamo più competitivi e insomma qualche soddisfazione in più vorrei prendermela.